Hai avuto desideri sessuali ultimamente? Mi piace improvvisare così ogni tanto per far esercitare le ragazze con sol... Hai avuto desideri sessuali ultimamente? Desideri sessuali? Desideri sessuali? Desideri sessuali? Rispondi sorella Celestina. Io... Hai avuto desideri sessuali ultimamente? TANTAZZO! TANTAZZO! Per quanto riguarda la voce solista non credo che farà più parte di questo collegio... Per il giorno di Pasqua. Io... Vuole piangere per l'indammadre? Eh? Hai avuto desideri sessuali ultimamente? TANTAZZO! 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 S.A.N.A.N.A.N.A.N.A.N.A.N.A.N.A.N.A.N.A.N.A.N.A.N.A.N.A.N.A.N.A.N.A.N.A.N.A.N.A.N.A.N.A.N.A.N.A.N.A.N.A.N.A.N.A.N.A.N.A.N.A.N.A.N.A.N.A.N.A.N.A.N.A.N.A.N.A.N.A.N.A.N.A.N.A.N.A.N.A.N.A.N.A.N.A.N.A.N.A.N.A.N.A.N.A.N.A.N.A.N Insomma, volevo chiederle perdono. E lei mi ha fatto venire fino a qua per chiedermi perdono? Hai avuto desideri sessuali finalmente? Grazie. Buongiorno, io non saremo rosaria. 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 Prendi il cucchiaio. Prendi il cucchiaio. Prendi il cucchiaio. Prendi sto cucchiaio. Voglio vedere chi la vince. Dai. Che tu sia maledetta. Fuori, fuori. Che tu sia maledetta. Che tu sia maledetta. Portatelo fuori. E tutto questo l'ho fatto io per voi. E tutto questo l'ho fatto io per voi. Ti ho permesso di studiare musica. Hai avuto desideri sessuali ultimamente. Perché allora amano tutti te? E tutto questo l'ho fatto io per favore. E tutto questo l'ho fatto io per favore. E tutto questo l'ho fatto io per favore. E tutto l'ho fatto io per favore.